Questo video riguarda i migliori tre bilance da cucina. Il vincitore della qualità è l'Exact bilancia da cucina. Exerts offre una vasta gamma di bilance da cucina di alta qualità e bilance per il corpo con il marchio Exact per una vasta gamma di esigenze dei clienti. Con un design innovativo, i nostri prodotti sono realizzati con materiali durevoli di alta qualità, finiture e colori. Oltre a una semplice lettura del peso, le bilance Exact sono dotate di una varietà di funzioni per aiutarti a capire qual è il tuo peso corporeo, in modo da poter monitorare e monitorare diversi aspetti del tuo peso, tra cui percentuale di grasso corporeo, percentuale di idratazione corporea, BMI e altro. Le bilance da cucina Exact sono progettate per consentire una totale fiducia in cucina, ideale per gli amanti della panificazione o della cucina. Abbiamo una vasta selezione di bilancia da cucina digitale, per aiutare la preparazione del cibo con misurazioni Accurate. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Kubei bilance digitale. La bilancia da cucina digitale ha tre opzioni di alimentazione, ricaricabile, plug-in e batteria, così come due opzioni di spegnimento, automatico e manuale. Di piccole dimensioni, il prodotto misura solo 4x5x0,75, rendendolo facile da trasportare e risparmiare spazio per lo stoccaggio quando in uso. La bilancia per alimenti ha una funzione di tara per ottenere il peso esatto dell'oggetto. Inoltre, le nostre bilance hanno una conversione di unità di misura One Touch. Una tara One Touch è una funzione di conteggio. La bilancia da cucina digitale è fatta di acciaio inossidabile, che è durevole e facile da pulire. Il design antiscivolo della base su tutti e quattro gli angoli rende la pesatura più stabile. L'adesivo per tastiera impermeabile corrispondente impedisce ai liquidi di entrare nella bilancia attraverso la tastiera, prolungando la vita della bilancia. Il vincitore del premio è il CECOTEC Bilancia da cucina. La bilancia da cucina CUC Control 8000 è dotata della tecnologia 4Control, un sistema integrato di quattro sensori di massima precisione, fino a una C, per garantire i migliori risultati in cucina. Dispone di un ampio display LCD in vetro facilmente leggibile grazie alla sua buona illuminazione, che permette di osservare i risultati di ogni misurazione in modo chiaro e affidabile. Con una capacità massima di 5 kg potrete pesare tutti gli ingredienti che desiderate. Non limiti alle tue creazioni. La bilancia da cucina CECOTEC è dotata di una piattaforma in acciaio inox con rivestimento antiimpronte per mantenerla pulita e in perfette condizioni più a lungo. La funzione TARA inclusa il nostro CUC Control 8000 consente di pesare liquidi e ingredienti all'interno dei contenitori senza influenzare il suo peso reale. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.